Salve ragazzi e cari amici del web, sono Andrea Bruno, il mio giro nel Borneo, nella Malesia, continua. Ogni tanto bisogna anche io di fare qualche tappa e trovo sempre dei posti interessanti. Nel luogo in cui sono giunto ora, pensavo non vi fossero hotel perché non sono segnati sulle carte, ho cercato anche con Expedia, con i vari siti internet. Mi trovo un hotel bellissimo che non è segnato sulle carte, ora ve lo faccio vedere, questa è la mia stanza, è dietro di me, così vi faccio vedere anche un po' dove soggiorno, la bellezza dei luoghi che sto visitando. Eccoci qua, questo è il mio letto, le mie cose, mi hanno messo anche l'aria condizionata, c'è un ventilatore, il letto, qui un po' come il corridoio, sono delle oggettistiche locali, è molto bello che ragazzi il mio viaggio continuerà partendo ancora da questo posto e ci sentiamo alla prossima, ciao!